allora innanzitutto questo punto si sviluppa su due giri ed è un multiplo di 6 più 3 quindi per questo campione avvierò 24 più 3 27 catenelle fatte le 27 catenelle sulla quarta catenella a partire dall'uncinetto lavoro una maglia alta quindi di fatto è come se avessi vedete 2 maglie alte le 3 catenelle più la maglia alta a questo punto 2 catenelle salto una catenella e nella successiva lavoro una maglia bassa 2 catenelle salto la catenella successiva e lavoro una maglia alta nelle seguenti 3 catenelle quindi la prima maglia alta la seconda e la terza quello che dobbiamo fare ovviamente adesso è quello di ripetere questa sequenza quindi per prima cosa vado a fare le mie due catenelle salto la successiva catenella e nella seguente lavoro una maglia bassa 2 catenelle salto la catenella successiva e lavoro una maglia alta nelle 3 catenelle successive e ovviamente vado poi a ripetere tutta questa sequenza ancora quindi due catenelle salto la catenella successiva entro in quella dopo il lavoro una maglia bassa 2 catenelle salto una catenella il lavoro 3 maglie alte quindi una maglia alta su ciascuna delle 3 catenelle seguenti a questo punto di nuovo 2 catenelle salto una catenella faccio una maglia bassa in quella successiva 2 catenelle salto una e dovete rimanere con 2 catenelle e su ciascuna di queste due catenelle lavoriamo una maglia alta e questo è il primo giro del motivo adesso andiamo a vedere il secondo giro che è quello con la nocciolina per prima cosa 3 catenelle questo vale per tutti i giri che corrispondono alla prima maglia alta giro il lavoro e lavoro un'altra maglia alta nella maglia successiva a questo punto lavoro 3 catenelle e vado direttamente nelle 3 maglie alte vedete dovrò lavorare una maglia alta nella prima maglia alta una nocciolina in quella e mezzo e una maglia alta sull'ultima quindi riprendiamo il lavoro e lavoro una maglia alta sopra la prima maglia alta e adesso vado a fare la mia nocciolina ovviamente c'è già un video dedicato e vi lascio il link sotto al video nell'info box però la nocciolina non sono nient'altro che cinque maglie alte lavorate poi insieme quindi entro faccio la prima maglia alta ma chiudo solo le prime due asoline quindi filo sull'uncinetto entro di nuovo prendo il filo chiudo solo le prime due asoline questa operazione la ripeto per cinque volte o anche di più o anche di più o anche di meno e non è una regola alle cinque volte che almeno 5 viene insomma una una bella una bella nocciolina a questo punto praticamente entrando così per cinque volte e chiudendo solo le prime due asoline vi ritroverete ad avere un totale di sei asoline sull'uncinetto quindi adesso abbiamo sei asoline sull'uncinetto a questo punto filo sull'uncinetto e le chiudo tutte insieme e questa è la nostra prima nocciolina e sulla maglia successiva invece l'ultima del gruppetto da tre vado a lavorare una maglia alta quindi questo giro in realtà è molto semplice ecco qua vedete e adesso ripetiamo quindi tre catenelle salto tutto e vado direttamente il nel gruppetto di tre maglie alte lavoro sulla prima una maglia alta sulla seconda vado a lavorare una nocciolina vi ricordo il video se non avete mai lavorato la nocciolina al video specifico ve lo lascio sotto al video nell'info box entro per cinque volte facendo delle maglie alte diciamo incomplete fino quindi ad avere sei asoline sull'uncinetto a questo punto filo sull'uncinetto le chiudo tutte e sei e lavoro sulla seconda maglia alta del gruppetto una maglia alta quindi proseguo così fino alla fine del giro allora poi 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 Arrivati alla fine lavoro sempre tre cattive catenelle e concludo questo mio secondo giro del motivo lavorando in questa maglia una maglia alta e nella terza catenella la seconda maglia alta come avrete capito iniziamo e finiamo ogni giro con due maglie alte quindi mi raccomando la terza catenella dovete lavorare ecco qua questa è la diciamo come si sviluppa il punto adesso andiamo a ripetere il primo giro quindi tre catenelle la nostra prima maglia alta giro il lavoro una maglia alta nella maglia successiva e adesso due catenelle e lavoro una maglia bassa in questo spazio da tre catenelle del giro precedente quindi qui in mezzo tranquillamente di nuovo due catenelle e adesso lavoro tre maglie alte su questi successivi tre punti quindi la prima maglia alta lavoro una maglia alta sopra la nocciolina e un'altra maglia alta nella maglia successiva e ovviamente adesso ripeto questa sequenza quindi due catenelle e ovviamente adesso ripeto questa sequenza quindi due catenelle una maglia bassa nello spazio da tre catenelle poi di nuovo due catenelle e poi lavoro tre maglie alte nelle tre maglie successive la prima maglia alta lavoro sopra la nocciolina un'altra maglia alta e poi un'altra maglia alta sull'ultima quindi molto molto semplice a questo punto di nuovo due catenelle lavoro una maglia bassa nell'arco da tre catenelle due catenelle e lavoro le tre maglie alte ecco qua di nuovo due catenelle maglia bassa nello spazio tre catenelle due catenelle adesso lavoro le ultime due maglie alte quindi una maglia alta e poi nella terza catenella lavoro l'ultima e adesso ripetiamo insieme il giro invece con le noccioline per prima cosa sempre tre catenelle 3 catenelle corrisponde alla nostra prima maglia alta giro il lavoro poi lavoro subito un'altra maglia alta nel successivo punto a questo punto 3 catenelle e vado a lavorare una maglia alta sopra la prima maglia alta del gruppetto da 3 sulla seconda invece lavoro la mia nocciolina quindi faccio le mie 5 maglie alte incomplete così come abbiamo visto finora e quindi entro tante volte fino ad avere 6 asoline sull'uncinetto ancora una a questo punto chiudo tutte e 6 le asoline adesso lavoro un'altra maglia alta quindi sulla sull'ultima maglia alta del gruppettino del giro precedente ok di nuovo 3 catenelle e ripeto tutto fino alla fine del giro 5 catenelle e ripeto faccio anche le ultime 3 catenelle e chiudo il mio giro con due maglie alte quindi la una maglia alta sulla penultima maglia e poi una maglia alta nella terza catenella ecco qua a questo punto andiamo a ripetere il primo giro in modo poi da completare diciamo questo campione quindi ormai avete capito 3 catenelle la prima maglia alta giro il lavoro e subito un'altra maglia alta 2 catenelle a questo punto una maglia bassa nello spazio 3 catenelle e 2 catenelle ancora e adesso vado a lavorare una maglia alta su ciascuno dei tre punti quindi sopra la prima maglia alta sopra il punto nocciolina e sopra l'ultima maglia alta 2 catenelle una maglia bassa nello spazio 3 catenelle 2 catenelle e le mie tre maglie alte e così via fino alla fine del giro 2 catenelle 2 catenelle e chiudo ovviamente il mio giro con le due maglie alte ecco qua a questo punto dovete continuare a lavorare i giri così come abbiamo visto questi due giri alternare questi due giri e ovviamente rispettando il multiplo di 6 più 3 se dovete avviare un diverso numero di catenelle in base al vostro progetto vi ricordo che con questo punto abbiamo già realizzato questo video lo scaldacollo spray e se volete insomma vederlo un po più sviluppato spero quindi che questo punto vi sia piaciuto anzi fatemelo sapere nei commenti mi raccomando sempre tanto love e vi aspetto alla prossima lezione ciao 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 ciao